Grazie a tutti. è che ti ha fatto un G.P. e non che voglia solo lo che tu querias ver oi, che vado vamo Gato, Carmen venga, noviate vamo Gaby vamo Gaby vamo Luico vieni venga vambi fórmula vamo guys viao 흥 e No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.